Un minuto, un solo minuto, per ascoltare, guardare, riflettere, tutto in italiano. Una mamma è una donna che pensa prima ai figli e poi a se stessa. È quella donna che si toglie il cibo dalla bocca pur di darlo alle sue creature adorate. Anche se a volte la fanno arrabbiare, anche se a volte deve dar loro da mangiare in posizioni stranissime. Anche se a volte dare da mangiare ai figli può sembrare a scelta una battaglia o un balletto. Italiano in Italia Per imparare l'italiano con un italiano in Italia Anche se a volte la prossima